La lunghezza, la lunghezza, sulla faccia del paziente, mai, come si misura la lunghezza? Non è pari eh? Come si misura la lunghezza? Vai di fronte a Massimo, guarda come fa lui. Non si tira, si solleva, si solleva, si solleva, è la pancia che alza. Grazie. Lui tiene il cuscino, tu arrotola la federa. Da qua, verso di te arrotola dentro. Prendi l'altra federa, l'altra. Ora la prendi da dentro, come li trovi meglio. Allora, guarda, tranquilla. Prendi questo. No? Poi cosa? Dopo saremo 500 minuti al posto del... Questo, guarda, lascia, lascia, questo, questo, poi prendi questo. Questo, questo, e lui tira. E tu un attimo, vi chiudi. Vedi? Ok, rifatelo.